Musica Buonasera a tutti, benvenuti alla serata di premiazione di Luca Comics & Games 2017 Sono veramente felici di ospitare qui un maestro che premerà un altro maestro Io chiamerei qui sul palco Enrique Briccia E lo faccio leggere o lo puoi annunciare senza neanche leggerlo? E così è il grande, 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 grande José Muñoz Buonasera, siamo onorati e felicissimi di averlo sul palco Scusate, godetevi un attimo, scusate Due frutti argentini della scuola del fumetto di Buenos Aires un po' italianizzati con estremo piacere Quarant'anni dopo, quarant'atre anni dopo nella Luca di ieri e di oggi Attraverso il nostro cammino, dei raccontatori, dei disegnatori di avventure umane Tante cose sono successe nelle Lucche passate Tante Lucche passate Passate assieme con Ogo Prado, con Alberto Breccia, con Solano Lopez Onde devono fare il viaffetto fra l'Argentina e l'Italia Con i lavoratori che sono andati, sono venuti Eccoci qua nella cadenza oceanica, maestri e allievi Io, i miei maestri Io e quelli che, ai quali ho contribuito a aprire le finestre di interesse Siamo tutti i maestri allievi di noi stessi, questa è la realtà Grazie a tutti Grazie Grazie No, no Grazie 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 Grazie